Ok è arrivato finalmente il pacchettino che ho ordinato su Amazon il giorno del Prime Day, anche se questo prodotto non è stato messo in offerta dalle offerte Prime, quindi l'ho acquistato più o meno a prezzo pieno. Si tratta di un obiettivo compatibile con la mia Nikon Tamron, quindi una marca di concorrenza, però comunque abbastanza nota, e l'obiettivo è un 18-200, perché ho scelto questo obiettivo? Perché si tratta di un obiettivo comunque economico e a quanto pare utile a 360 gradi per diversi punti utilizzi, che sono quelli che dovrò fare io, che non sono un esperto, non sono uno che con la fotocamera ha tante pretesse, quindi ho avuto un problema con il mio obiettivo 18-55 in dotazione con la Nikon e quindi ho preferito acquistare questo per il momento e per vedere un pochettino come mi trovo e se questo è sufficiente per quello che devo fare io. Ora però apriamo la scatola, istruzioni e diciamo protetto da questi cartoncini, c'è il nostro obiettivo, cerchiamo di salvare senza fare danni, ok, vogliamo questi cartoni inutili, questo è il contenuto della scatola, In questa prima carta protettiva c'è appunto l'obiettivo, il nostro Tamron, eccolo qui, e poi qui a giudicare dalla forma, da come lo sento sotto le mani abbiamo questo che va messo davanti, che serve come, diciamo, protezione, protezione dalla luce, per il nostro, per il nostro figlio, per il nostro obiettivo che va messo appunto davanti. Ecco qui, comunque ripeto, l'ho già detto all'inizio, non sono un esperto per quanto riguarda gli obiettivi, quindi non so cosa dire di tanto specifico, non vorrei dire bestemmiare o dire qualcosa che possa far incazzare qualcuno, esperto, qui c'è il tappino, e adesso lo inserirò nella mia Nikon, vediamo un po' come pare. Ok, ho più o meno tutto qui, possiamo smontare il 18-55 dalla Nikon, dal corpo macchina, e a questo corpo macchina ci andiamo ad avvitare questo qui. Andiamo ad fare la cosa giusta, io cerco di non uscire dal campo. Ok, ecco qua, dunque l'obiettivo è bloccato, così è sbloccato, e ci esce da fuori, anche così è un bel cannone, anche se ci sono cannoni peggiori, e poi questo qui va avvitato davanti. Perdonate la mia indelicatezza, però, comunque, il nostro obiettivo, la nostra fotocamera, ha questo aspetto, alla fine, adesso io lo proverò, sono un pochino emozionato, tra virgolette, però lo proviamo e vediamo un po' come va.